Finalmente, dopo intere giornate di lavoro, ho il piacere di presentarvi la nuovissima serie estiva Benvenuti in Pokémon Ultra Sole, Ultra Lock Randomizer Ciao a tutti allenatori, sono sempre io il vostro amico Federic e questa volta vi posso assicurare ne usciremo tutti fuori di testa Alla fine siamo tornati da Lola, ma in una veste completamente diversa e già da questo primo episodio ne avrete la conferma Io sinceramente non vedo l'ora, lasciatemi sin da subito 10.000 pollicini all'insù perché dai, è estate, dovevo per forza tornare da Lola E quindi forse dovrei dire a Lola tutti allenatori Prima di iniziare però voglio fare dei ringraziamenti dovuti Ahmed Phoenix, colui che ha creato questa pazza mod, vi lascio il suo canale qua sotto in descrizione E ovviamente anche al mio grafico, davide-cd Lo trovate su Instagram? Guardate che ambientazione fighissima, guardate che logo Bravissimo, grazie mille bro Vi devo anche ricordare quando uscirà questa serie Attualmente la programmazione è prevista per il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle ore 14.30 Impostate sempre la sveglia perché vi voglio tutti puntualissimi E ci sono delle novità per questa serie Le regole come sempre ve le ricorderò durante la serie ma potete trovarle anche qua sotto in descrizione Insieme ovviamente a tutte le mod che abbiamo aggiunto a questo gioco In Let's Go Eevee non avevamo cambiato il tipo dei Pokémon schinnati e questa volta invece l'abbiamo fatto Pensate che sia impossibile trovare un Dragonite di tipo ghiaccio? Beh allora fareste meglio a guardare questa serie E se in Let's Go Eevee c'erano soltanto una trentina di Pokémon schinnati Qui ne abbiamo più di 60 Beh che stiamo aspettando Iniziamo subito E forse anche le musiche sono un po' cambiate Ma lo lascio scoprire a voi Iniziamo Finalmente ad Allora C'è una chiamata per te Voi ascoltate sotto eh Eh già Eh già Ops Eh aspetta un secondo Oh ilà buongiorno Il gran giorno si avvicina Eh voglio dire Il giorno del tuo trasferimento Ad Allora ovviamente Vedi? Questa non è una regione così normale Ultimamente ci sono talmente tanti Pokémon schinnati in giro che Oh mio Dio E quindi sì Anche ad Allora Vimono davvero un sacco di Pokémon I Pokémon sono creature straordinarie sai Puoi trovarli dappertutto Nell'erba alta Nelle grotte Nel cielo E nelle profondità del mare Ragazzi non vedo l'ora di farvi vedere Che razza di gioco abbiamo creato Ci sarà veramente da divertirsi E spero che voi Lo facciate insieme a me Intanto dimmi Qual è la tua foto? Hmm Quale sarà mai la mia foto ragazzi? Scegliamo un personaggio particolare questa volta Che ne dite? Magari uno che non ho mai preso? Potremmo prendere l'ultimo? Non so O andarci un po' più sul classico In realtà ho molti dubbi a riguardo Ma per questa volta Credo che sceglierò nuovamente lui Esattamente Ci chiamiamo ovviamente Federick Federick giusto? Esattamente Perfetto Comunicherò a tutti i dettagli del tuo arrivo Prima di continuare ragazzi Volevo dirvi una cosa importante Perché ho deciso di fare questa serie Da solo E senza Michelle O un altro youtuber Perché fare Due mod simili Mi avrebbe richiesto Non so quanto tempo Quindi Piuttosto una serie subito Che aspettare tra i quattro mesi E tra parentesi Dato che è estate Ho già fatto due magliette Su Alola Le magliette Surfing Alola E Ultra Beast Sono scontate del 25% Per tutta la stagione estiva Le trovate qua sotto in descrizione Se non l'avete prese Mi raccomando Fatelo È un'ottima cosa Per recuperare qualche maglietta Che ho messo qualche tempo fa Ma andiamo avanti Federick eh? Eh già È un nome che esprime l'energia Che c'è in te Colpisce come un troficalcio Trovi calcio Bene allora ci vediamo ad Alola Non vedo l'ora di conoscerti Di persona Ci siamo signori Ci siamo Si chiude il collegamento Con Kukui E si passa All'azione È un'ottima cosa ragazzi Di giocare alla settima generazione Ora che uscirà ovviamente L'ottava Vediamo un attimo Wow Sarebbe stato impossibile Ragazzi avere due DS Così moddati Per registrare questa serie In due Quindi Sarà totalmente Con Federick In stile Ecco i tempi No? Chissà se già da questo primo episodio Ragazzi vedremo qualcosa Di insolito Ma secondo me Sì vedrete Dovete sapere che a me Pogomo sole e luna E ultra sole e ultra luna Non mi sono dispiaciuti affatto Anzi Sono dei gioconi Ragazzi Però se devo scegliere Tra tutte e due Ovviamente Ultra sole Rispetto a sole E ultra luna Rispetto a luna Ovviamente Tre mesi dopo Commentatemi Scrivendomi Voi che gioco avete Ultra sole O ultra luna Sono molto curioso Di questo Io li ho entrambi Magari anche voi Raga Sono eccitatissimo Finalmente Una nuova avventura Insieme Ricordo Abbiamo ben 10 vite Speriamo di resistere Fino alla fine E di non morire subito La difficoltà Come sempre È molto superiore Oltre ad avere Dei pokemon Completamente nuovi Ah Ops Ho già dato uno spoiler Ah che meraviglia Il primo giorno Sotto il sole di Alola Clima caldo E il cielo luminoso Sembra un sogno Abbiamo ancora parecchio Da fare Bisogna sistemare Gli scatoloni Eh meo Vai a chiamare Federic Miau Non credo faccia così Però comunque Ci siamo Speriamo fili tutto liscio Ragazzi Dato che nemmeno Abbiamo testato la mod L'abbiamo inserita dentro Oh Ci siamo Ci siamo Ci siamo Questa volta Non abbiamo cambiato La skin Del nostro personaggio Ma qualcos'altro È cambiato E ve ne sarete sicuramente Accorti Sì ragazzi Perché Cambiare la skin Era veramente Troppo troppo difficile Oh Yes Ci siamo Prendiamo I nostri accessori Allora Ma li faccio prendere Vabbè Li prenderemo dopo Allora Usciamo Come sempre La vecchia scopa Alta quanto noi Quella ragazzi Non manca mai È incredibile Hai fatto una bella dormita Sembravi proprio Un piccolo starlax Ti senti riposato adesso Hai visto che sole Qui ad Alola è già Un giorno inoltrato E sarà luna Che bella serata Avrebbe detto Scommetto che non vedi l'ora Di partire alla scoperta Di pogmon di Alola Ma certo Non sto più nella pelle Per te La regione di Alola È davvero un paradiso Incontaminato Per questo attira Tanti visitatori Perché non vai fuori A scoprirlo con i tuoi occhi Vai a prepararti Li volevo prendere prima Ma tu non me li hai fatti prendere Quindi colpa tua Ok Prendiamo cappello E borsa E andiamo un po' A scoprire questi nuovi Pogmon schinnati Ragazzi Ho già in mente Un team Questa volta Eviterò Charizard e Dragonet Ok Questa volta Non ci saranno Ve lo giuro Lo prometto qui Nel primo episodio Non ci saranno A meno che non mi capiti Un Dragonet ghiacciato Tutto fighissimo Ne farò a meno comunque Anche se effettivamente Poi sarà di tipo Ghiaccio Bene Vedo che sei pronto Per la tua avventura Mi raccomando Federic Fai attenzione All'erba alta Signor Sì mamma Non c'entrerò mai Nell'erba alta Maledetta erba alta Usciamo Ragazzi Finalmente Mi mancava una bella partita Pogmon ultra sole Dopotutto Dopo aver fatto la guida Non ci ho più giocato Quindi Andiamo su Ah che spettacolo Quanto è bello Regà Bello bello Ma se io entro Nell'erba Giustamente Il professore mi fa Fermo lì Cosa pensi di fare Nell'erba alta Mi dirà Eccoli ragazzi Chi saranno mai Adesso lo vedrete Allora Molte cose che Mad ha messo All'interno del gioco Ragazzi Io non le so E abbiamo Raulet Litten e Poplio Ok Vediamo ragazzi Quale prendere Allora E qui all'apparenza Sembrano normali Ragazzi Ma non saranno Così tanto normali Fidatevi Però le musiche sotto Ragazzi Tutto bene Eh sì Grazie ai Pokémon Che mi hanno salvato Eh L'hai scampata bella Comunque devo ammettere Che sono rimasto Di stucco Quei Pokémon sono accorsi In tuo aiuto Di loro iniziativa Ah ma lascia che mi presenti Io sono il professor Cooqui Benvenuto ad Alola Il paradiso dei Pokémon Qui ad Alola Le persone di Pokémon Vivono in armonia E si aiutano a vicenda Con un Pokémon Al tuo fianco Potrai andare Dove vuoi E non avrai nulla Da temere Se sei dei Pokémon Selvati Ci salteranno fuori Dall'erba alta Ovviamente Quindi puoi prendere Uno di questi Pokémon Immagino Ovviamente Ragazzi Questa volta Secondo me La scelta più giusta Potrebbe essere proprio Rowlet Sapete Perché ho preso Poplio Ho preso Litten Ma Rowlet Non l'ho mai preso Quindi che le dite Se prendo proprio Il Rowlet Prendiamo Rowlet Assolutamente Sì ragazzi Prendiamo il tipo Erba Rowlet Ma sarà effettivamente Così Sarà effettivamente Così Vediamo Tutto 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 Hai scelto Rowlet Ma questo Pokémon Ragazzi è diverso Ok Fino alla scelta Del starter Ragazzi Ho collaborato Anch'io Perché effettivamente Volevo metterci mano Per il resto Io non so nulla Sapevo che questo starter Era abbastanza strano Ma per il resto Non so niente A parte il Dragonite Ghiacciato Vi posso assicurare Ragazzi Che ne vedremo Di belle Ok Vuoi dare un soprannome A Rowlet È abbastanza bruttino Effettivamente Non lo ricordavo Così Va bene Diamogli un soprannome Allora Lo chiameremo Ragazzi Edvige Anche se effettivamente La civetta di Harry Potter Era femmina Quindi ragazzi Mi resta che chiamarlo A questo punto Legolas Mi piace come nome Per chi non conosce Legolas Si guardi Il signore degli anelli E spacca di brutto Come nome sinceramente Assolutamente Vada per Legolas Legolas è stato aggiunto Alla tua squadra Ma di che tipo Sarà questo starter Lo andiamo a vedere Subito signori Allora hai scelto Rowlet Perfetto Sembrate fatti L'uno per l'altro Ora sei un allenatore A tutti gli effetti E puoi cominciare A darci dentro Con le lotte Ecco Prendi una pokeball Per Rowlet Bene Federic Adesso Andiamo a Lily E' ora di incontrare Il Kauna dell'isola Il Kauna dell'isola? Il tuo Rowlet E' un regalo Da parte del Kauna Andiamo a fargli vedere Chi hai scelto Vi dico ragazzi Sarebbe stato Molto meglio Se effettivamente Anche Il pokemon Dal vivo così Si potesse Skinnare Il problema è che Non si può fare A quanto pare O forse è troppo difficile Non è di nostra competenza Insomma Però Ce l'abbiamo E in lotta Si vedrà Come l'avete visto C'ha un colore particolare Puoi tenere Rowlet Nella pokeball Che ti ho dato Top Allora Vediamo un attimo Questo Rowlet Legolas Benvenuto nel team Ed eccolo qua ragazzi Di tipo Fuoco Volante E voi non avete idea Di che figata sarà Quando diventerà DesiDwai Ok Un fuoco volante Abbastanza particolare Oddio E' anche stranissimo Vi dico la verità Guardate che carino Allora Beccata Oh Mossa stabbata Non male Poco attacco speciale Ragazzi Con Venta Argentio Sveglio pacca E segno raggio Ok Abbiamo due mosse Coleotero Una lotta E una mossa Volante Abbiamo un po' di varietà Sinceramente Beh ci poteva andare Sicuramente meglio Che una natura scaltra Però Ce lo faremo bastare E a questo punto Ragazzi Dobbiamo andare Dal K1 Quindi Raggiungiamolo Ricordo Finchè non abbiamo Le ball Non possiamo fare catture E incontriamo Un pokemon Abbastanza strano Abbastanza strano Scorupi Facciamo fuga Andiamo avanti Tanto non abbiamo Ball Non possiamo catturare Nessuno Tanto da questo percorso Poi ci ripasseremo Ragazzi Tranquilli E qui Facciamo conoscenza Di Au Ehi ciao Sei già che pokemon Scegliere Ah in realtà L'ho già preso Però Ah giusto Io sono Au Non stavo più Nella pelle Ti sono venuto A incontrare Dai ci diamo I nostri pokemon Ma in realtà Te l'ho detto Sei tardo Cioè l'ho già preso E dai Ah il tuo Naulet è troppo Bello Scusa Ma Federica Ha avuto un piccolo Diciamo Incidente di percorso E ho dovuto farle Scegliere subito Il suo pokemon Ah beh Allora è stato un incontro Voluto dal destino Dai su Au Scegli pure il tuo Starter Tanto il mio Sarà molto più forte Del tuo E soprattutto È fuoco Prenderà poplio Perché giustamente Deve essere Debole Mentre negli altri giochi Al contrario Doveva essere Super efficace Professore Lei si prenderà Cura di litem Vero Certo Au Ci penso io Io e il mio piccolo Poplio Abbiamo un favore Da chiedervi Ha già subito la lotta Eh vabbè Facciamo la lotta Allora fammi vedere Il tuo poplio Com'è allora Dai Fantastico Sono sicuro Che ci sarà Da divertirsi Andiamo ragazzi Un po' la musica Oh Very nice Mad Si chiama direttamente Mad Ok Colui che ha creato La modda appunto Ma che figata La musica sotto Ok ragazzi Quanto Scyther Beccata È perfetto Bacci piano Scyther Sono più forte Bam Li leviamo un bel po' eh Non dovrebbe Shottarmi Col suo prossimo attacco Ma al massimo Mi mette a vita rossa Un PS Beccata Vediamo se riusciamo A farlo fuori Oh yes Mad Mi dispiace Se è più bravo A moddare le mod A moddare le mod Giusto così Federic Giusto così Saliamo già ragazzi A livello 7 Con questa sfida E abbiamo sconfitto Mad Allenatore Nice Wow Federic Tu e Rowlet Siete stati Formidabili Le notte L'importante è divertirsi E questo vale sia per L'allenatore Che per il suo Pokémon Niente male Federic Sia tu che Aus Siete riusciti a tirare fuori Il meglio dei vostri Pokémon E a usare le mosse Straordinarie Lili è qui a due passi Forza Federic Dobbiamo andare a Lili Ragazzi Vai 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 Poi nel prossimo episodio Ragazzi facciamo una bella Cattura E incominciamo a vedere Cosa si trova In questa erba Misteriosa di Alola Siamo arrivati a Lili Questo è il villaggio Di Lili Com'è tranquillo La pace dei sensi Proprio Qui si viene la Tapu Koko Il Pokémon protettore Di Mele Mele Che è l'isola corrente Dove ci troviamo Sembra che il Kauna Non ci sia Beh starà andato a sistemare Qualche guaio nei paraggi Sì Se ne è andato fischiettando Senza dire niente Beh allora io passo Un attimo da casa Voglio far vedere Poplio alla mamma Ah dimenticavo Federick A nord del villaggio C'è un tempio Legato al culto di Tapu Perché non vai a dare un'occhiata Chissà potresti anche incontrarlo Io resto qui Ad aspettare il Kauna Ma ragazzi Dobbiamo raggiungere Il tempio di Tapu Ovvero Da questa parte Dove c'è una Lili Che ci attende Perché Dobbiamo salvarla Ma ragazzi Questo lo faremo sicuramente Nel prossimo episodio Per oggi È veramente tutto Vi invito a lasciare un like Come metto Iscrivervi al canale Avete visto un attimo Un'infarinatura generale Di questa Nuova serie Noi ci vediamo nel prossimo episodio Dove andremo A catturare Il nostro Secondo Pokémon Da per dire tutto Ciao a tutti allenatori E bentornati Ad Alola